Ora parliamo di atletica leggera perché c'è una bella notizia per l'Abruzzo, i campionati italiani assoluti indoor che si sono svolti sabato e ieri ad Ancona hanno riservato l'atletica abruzzese la soddisfazione della medaglia d'oro di Gaia Sabatini, state vedendo la sua cavalcata trionfale che ha vinto per il secondo anno consecutivo il titolo sui 1500 metri. La ventunenne mezzofondista teramana delle Fiamme Azzurre, cresciuta nell'atletica Gran Sasso, si è imposta con questo tempo 4 minuti 13 secondi e 70 centesimi a soli 8 centesimi dal primato personale indoor stabilito lo scorso anno in occasione della vittoria del precedente titolo. La Sabatini è piazzato lo spunto vincente a 400 metri dal traguardo, l'unico rammarico per lei è di non aver centrato il minimo di partecipazione ai campionati europei indoor che si svolgeranno in Polonia. Altri risultati di rilievo degli atleti e delle atlete abruzzesi nel salto in lungo da segnalare il sesto posto di Lorenzo mantenuto con la misura di 7 metri e 19 centimetri. Positivo il comportamento sugli 800 dei giovani Elena Trivellone della Tetis Chieti, dodicesima, buono anche il decimo posto sempre negli 800 metri del compagno di allenamenti Manuel Di Primio, portacolori dell'atletica Gran Sasso.